La voglia di vincere è un aspetto che oggi ho apprezzato molto, che ho visto nei ragazzi durante il lavoro della settimana, ho chiesto di riproporlo oggi con tutte le possibili difficoltà che avremmo potuto incontrare per via del lavoro intenso che abbiamo affrontato durante la settimana, però la volontà di vincere la partita, anche se fosse la prima amichevole, è un aspetto molto importante. Cosa le è piaciute in particolare? Mi è piaciuta la disponibilità in generale tutta la settimana di lavoro e di oggi nella prima uscita, la disponibilità al lavoro, la disponibilità soprattutto a riproporre con coraggio i principi di gioco che abbiamo incominciato a impostare, a lavorare durante la settimana. Quindi ci sarà da migliorare, da velocizzare, da valutare anche tanti aspetti, però l'importante è che i ragazzi siano applicati e abbiamo cercato di mettere in pratica quello che abbiamo preparato. La filosofia della società, i ragazzi del 2002 vengono allenati come tutti gli altri giocatori della Rosa e se dimostreranno di meritare, di poter giocare, perché no, largo anche i giovani. No, per adesso concentriamoci sulla nostra settimana di lavoro, poi sul sorteggio del girone, presumo che saremo ancora nel girone B, ma l'importante adesso è concentrarsi sul lavoro, sul migliorare quotidianamente, che questo è l'aspetto più importante per adesso. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!